ma ora si torna a parlare di auto e lo facciamo con chi ci porta la tranquillità in strada che conosce le esigenze di un guidatore e chi sa consigliare la macchina più giusta per noi si tratta di Ivan Mainini di Mainini Auto ovviamente salutiamo Ivan buongiorno e benvenuto Ivan Ivan buongiorno niente non buongiorno tutti voi eccolo qui perfetto Ivan allora eh ovviamente rimeditore multimarca Legnano da oltre cinquant'anni quindi la storia delle concessionarie Ivan in questo momento un po' particolare se avessi bisogno di una consulenza su un nuovo acquisto o venire a visitarvi cosa posso fare? Allora purtroppo siamo di nuovo in zona rossa e questo è un dato di fatto però fortunatamente la nostra categoria quella delle delle auto eh riesce a stare aperta anche in un periodo così difficile e a poter accogliere eh tutti i clienti per cui noi in particolare abbiamo mantenuto il il consueto orario dal lunedì al sabato anche pomeriggio e eh si può venire noi privilegiamo eh privilegiamo l'appuntamento consigliamo di prendere appuntamento possiamo anche mandare eh una mail di conferma appuntamento da eventualmente esibire ad un ad un eventuale controllo eh detto questo se eh preferite non venire direttamente in esposizione ma eh guardare le no la vettura che vi interessa entemente da casa è possibile organizzare una videochiamata eh contattandoci eh via WhatsApp o via mail o chiamandoci al nostro telefono tutti i contatti li trovate nell'home page del nostro sito di modo che possiamo organizzare allora eh che decidete voi dove siete più comodi eh una un tour virtuale del nostro showroom o della macchina in particolare che vi interessa beh sono cose che si fanno quasi normalmente ormai oggi ma tra l'altro guarda sia virtualmente che fisicamente trovato esatto ma tra l'altro proprio parlando di cose che arrivano da internet sulla vostra home page del vostro sito e tra l'altro il sito lo ricordiamo maininiauto.it ci sono delle belle super promo ce ne racconti un po' o meno a grandi linee? Allora questa è un'altra iniziativa che abbiamo creato di recente proprio per un rincontro a un periodo così difficile ci siamo inventati diciamo una una promozione che noi abbiamo chiamato super promo che applichiamo su diversi modelli quelli diciamo più diffusi ehm dove diamo la possibilità eh al cliente e inoltre eh inseriamo nel finanziamento l'assicurazione di incendio e furto che ha due caratteristiche molto interessanti ovvero il valore nuovo in caso di furto per cui qualsiasi cosa vi possa succedere vi ricomprate un'altra macchina senza aggiungere un euro e la franchigia zero su qualsiasi intervento quindi spaccate un vetro prendete una grandinata vi rigano la macchina la portate nella caratteria convenzionata e non spendete mai un euro anche qua quindi eh diciamo che abbiamo cercato di abbinare la sia il fatto di non dover eh pagare nulla come se può pagarsi eh la rata eh la diciamo una piccola rata dove c'è inclusa anche l'incendio e furto a tasso agevolato e eh inoltre pagare la vettura almeno mille euro del prezzo di esposizione quindi l'altro grande vantaggio della super promo che rispetto al prezzo normale della vettura chi vuole aderire ha anche un minimo mille euro ulteriore di sconto quindi diciamo che abbiamo preso i classici due piccioni con una fava e penso che sono promo di cui approfittare prima che finisca. Beh devo dire a questo punto caro Ivan che dai Mainini è vero allora che trovo la risposta ad ogni esigenza. Scusa. Noi ci crediamo speriamo proprio di sì. No siamo sicuri che sia così. Ricordo se volete andare a vedere il sito dove trovate tutte queste super promo e tutto quello che è il mondo Mainini Mainini auto.it oppure chiamate subito magari anche per una visita sul posto o anche virtuale allo zero tre tre uno quarantacinque quarantasei undici. Ivan è stato un piacere averti con noi anche oggi e auguro a te e tutto il tuo staff una buonissima giornata e una buona settimana. La mattina di Millennium.